L'obesità negli ultimi decenni ha raggiunto proporzioni epidemiche, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera l'obesità come una delle emergenze sanitarie del pianeta. Per dare alcuni numeri, in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali, più del 50% della popolazione è sovrappeso o obesa. Ovviamente il primo intervento che si attua per ridurre e per trattare l'obesità, per ridurre il peso corporeo, è la prescrizione dietetica. La prescrizione dietetica nella maggior parte dei centri viene formulata stimando le calorie del paziente con delle equazioni predittive. Per esempio, se io ho davanti un signore di 70 kg e devo farlo dimagrire, devo stimare il dispendio energetico totale del soggetto con le equazioni predittive e poi somministrare e prescrivere una dieta che in genere è di 300 calorie inferiore al predetto, in modo tale che il soggetto perde peso. Ora, stimando, si introducono degli errori potenziali che possono arrivare al 20-30% delle calorie reali. E quindi questo può portare al fallimento, soprattutto nel medio termine, della perdita di peso, quindi della dieta. Quello che abbiamo sviluppato nel nostro centro, al Policlinico San Donato, negli ultimi 4 anni, è l'applicazione di routine di una metodologia che prende il nome di calorimetria indiretta, con la quale, anziché stimare le calorie, queste vengono misurate. La metodologia è molto semplice, il paziente deve stare sdragliato sul lettino per circa 20 minuti e un apparecchio misura il consumo di ossigeno del soggetto. Dal consumo di ossigeno noi abbiamo esattamente il numero di calorie consumate da quel soggetto. A questo punto avviene la prescrizione dietetica e quello che abbiamo visto, e i nostri dati sono stati di recente pubblicati sulla rivista Acta Diabetologica, è che utilizzando questo sistema, quindi la misura anziché la stima, la perdita di peso dei soggetti è molto più duratura e a 18 mesi dopo l'inizio della dieta, i pazienti che hanno eseguito la calorimetria hanno perso molto più peso dei pazienti a cui invece è stata somministrata semplicemente la dieta stimando con le equazioni produttive.